la promessa anticipazioni. Un'aria di mistero avvolge la villa, e la tensione cresce mentre si avvicina il matrimonio tra Curro e Giulia. Ma c'è un segreto che sta per essere svelato e che potrebbe stravolgere ogni equilibrio. Alonso, il patriarca della famiglia, sembra portare sulle spalle un peso che non può più ignorare. È possibile che un oscuro segreto di famiglia venga rivelato proprio durante le nozze? La sala principale è in fermento, i preparativi per il matrimonio sono quasi ultimati, ma c'è qualcosa che non torna. Gli sguardi di Curro tradiscono un'insolita inquietudine, e Giulia sembra più determinata che mai a ottenere ciò che vuole. Dietro le quinte, però, si nasconde una verità che nessuno immagina, una verità che Alonso è deciso a rivelare al momento giusto. Ma cosa potrebbe spingerlo a farlo davanti a tutti? Prima di continuare, se vuoi rimanere aggiornata e ricevere in anteprima i video della promessa, scrivi «sì» nei commenti. Ricominciamo. Nella villa, Curro è. Intrappolato tra la pressione della famiglia e le sue stesse paure. Non ama Giulia, e il peso delle minacce di José quando lo sta consumando. Cammina nervosamente avanti e indietro nella sua stanza, cercando disperatamente una via d'uscita. Alla fine, decide di rivolgersi ad Alonso, l'unico che potrebbe aiutarlo. Entrando nell'ufficio del patriarca, Curro trova Alonso seduto sulla sua imponente poltrona, intento a esaminare dei documenti. Il giovane esita, ma poi, con un filo di voce, inizia a parlare. «Zio Alonso, devo parlarti del matrimonio». «Non posso farlo», confessa con disperazione. Alonso alza lo sguardo, sorpreso. «Cosa stai dicendo?» «Giulia è una ragazza di sani principi, e questo matrimonio è la cosa migliore per tutti». Curro scuote la testa. «Non la amo, zio». «Questo matrimonio non ha senso per me». Le parole del giovane sembrano scuotere Alonso, che posa con forza il bicchiere di vino sul tavolo. «Ascoltami, Curro. Questo matrimonio non riguarda solo te. È una questione di...» «Famiglia, di onore». «Sposare Giulia ti darà stabilità e metterà fine alle dicerie sul tuo conto». Ma Curro insiste, «Zio, non posso vivere una menzogna. Non voglio seguire questa strada». Alonso, con un'espressione dura, ribatte, «La vita non riguarda ciò che vuoi, ma ciò che devi fare. Questo matrimonio è una scelta giusta, e se col tempo non ti basterà, beh, ci sono modi per gestire la situazione». Le parole di Alonso lasciano Curro senza fiato. L'idea di tradire Giulia con un amante gli sembra inconcepibile, ma il patriarca lo tratta come un consiglio pragmatico, quasi inevitabile. Curro lascia l'ufficio ancora più confuso e turbato di prima. Si sente intrappolato, senza via d'uscita, mentre il giorno delle nozze si avvicina inesorabilmente. Nel frattempo, Alonso prende una decisione, è tempo di fare ordine nella villa e preparare tutto per il grande giorno. Tuttavia, quando incontra Petra per assegnarle nuovi compiti, la governante gli ricorda un dettaglio importante, il matrimonio di Catalina e Pelaio deve avere la precedenza. Alonso riflette per un momento, poi annuisce. Assenso. Catalina è la figlia del marchese, e il suo matrimonio deve essere il primo. Assicurati che entrambi gli eventi siano impeccabili. Petra, con il suo solito fare efficiente, si mette subito al lavoro, mentre Alonso si ritira nei suoi appartamenti. È lì che lo attende un altro confronto, questa volta con sua moglie, Cruz. Cruz, con il suo sguardo penetrante e il tono tagliente, non perde occasione per criticare Catalina. È incinta prima del matrimonio, e ora tutta l'attenzione è su di lei. Che esempio deplorevole per la famiglia! Alonso, visibilmente irritato, risponde con fermezza, Catalina sta facendo ciò che deve fare, assumendosi le sue responsabilità. Sposerà pelaio e metterà fine a ogni scandalo. Questo è coraggio, qualcosa che non sembri comprendere. Il confronto tra i due si intensifica, fino a quando Alonso decide di abbandonare la stanza. Non posso. Condividere uno spazio con qualcuno che non rispetta la propria famiglia, dichiara, chiudendosi una porta alle spalle. Cruz, furiosa ma impotente, resta sola nella sua lussuosa suite. Ma è chiaro che non ha intenzione di restare in silenzio. Mentre Alonso si ritira in una stanza vuota per riflettere, Cruz inizia a pianificare la sua prossima mossa. Il giorno del matrimonio di Curro e Giulia arriva, e la villa è decorata con ogni lusso immaginabile. Gli ospiti iniziano ad arrivare, ma l'atmosfera è carica di tensione. Curro è pallido, mentre Giulia sorride con una sicurezza quasi inquietante. Alonso osserva tutto da lontano, con un'espressione indecifrabile. Mentre la cerimonia sta per iniziare, Alonso fa un passo avanti. Con voce ferma, interrompe il rito e si rivolge agli invitati. Prima che questo matrimonio venga celebrato, c'è una verità che devo rivelare. Il silenzio cala sulla sala. Giulia lo guarda confusa, mentre Curro sembra sul punto di svenire. Curro non è mio nipote. Dichiara Alonso, ma mio figlio. La rivelazione lascia tutti senza parole. Giulia arretra di un passo, scioccata, mentre Osèquan si alza furioso dalla sua sedia. Questo matrimonio non può avere luogo, conclude Alonso. Non posso permettere che questa farsa continui. E ora? La rivelazione di Alonso non solo sconvolge la famiglia, ma pone una serie di domande irrisolte. Come reagirà Giulia a questo tradimento? E Osèquan accetterà di perdere il controllo su Curro? Mentre gli ospiti lasciano la villa in silenzio, Alonso si ritira nel suo ufficio, consapevole che la sua decisione ha cambiato tutto. Ma Cruz, con il suo sguardo determinato, non sembra intenzionata a lasciare che la situazione scivoli via così facilmente. E voi, cosa pensate che succederà ora? Credete che Curro riuscirà a trovare la sua strada? Oppure Giulia e Osèquan cercheranno vendetta? Fatecelo sapere nei commenti, scrivetesi se pensate che la verità di Alonso sia stata la scelta giusta. Non perdetevi! Prossimi episodi di La Promessa, dove gli intrighi, i tradimenti e i segreti continueranno a tenervi col fiato sospeso. Tornate sul nostro canale per scoprire come si evolverà questa storia piena di colpi di scena. La promessa di Alonso è solo l'inizio. Cosa ci riserverà il futuro?